Bene, vi faccio vedere il 49.1, abbiamo aperto, vi faccio vedere cosa c'è all'interno dopo che è scaldato, cosa è successo. Ovviamente il toroide è perfetto, ah sì, si è salò bruciacchiato, cioè si è scaldato, non ha scaldato come un motore, ma non ha subito particolari problemi, soprattutto la mescola, che comunque quando è freddo lavora bene. Il cavo è un cavo da 1,3, smaltato, il filo anzi, non il cavo. Guardate come la colla è completamente colata nel basso, come è sciolta. Tenete conto che questa è una colla molto buona e ci vuole una pistola termica seria per scioglierla. La pistola termica generalmente sta intorno ai 110 gradi, questa lavora penso intorno ai 150 per sciogliere questo tipo di colla, se non di più. Notate come sia completamente sciolto, e non è che è sciolto, cioè bruciacchiato, quantomeno un pochettino, vediamo se si vede. È completamente colato, era per tutto, sembra fatto apposta, cioè proprio il toroide era diventato una palla di fuoco. Infatti la vedete tutta spalmata, bella sul toroide, è colata sul toroide, si è adagiata in maniera proprio perfetta. Sembra fatto apposta. E poi addirittura è colata verso il basso, quindi era proprio a temperature, vediamo se riusciamo a bloccare, sì. A temperature elevate, vediamo se si vede, se rende l'idea. Allora, proprio bello, sembra quasi ripinto. In maniera uniforme, si è incollata su tutto il toroide, perché giustamente a caldo ho preso benissimo. Sciolta completamente, cioè non è che a qualche punto è rimasta, si è sciolta completamente. Le fascette hanno retto qualche strano miracolo, hanno retto più o meno, ho bruciato pure l'oro. Ed è colata completamente in questa maniera, quindi questo, ripeto, funziona, non funziona, però. La gente che dà questo tipo di 1-1, fatto in questa maniera, 200-300 watt, con il 240-43, secondo me andrebbe torturata, come tortura di apparecchiature, questo tipo di affare. Completamente sciolta, bella, ho usato nel formento tutto il toroide. Qua sono scaldati, qua siamo stati oltre i 100 gradi, ripeto, questa è la termica, sta intorno ai 110, questa ha sciolto, questa ha sciolto, questa ha sciolto tutta la colla in maniera proprio costante, uniforme e tutto, quindi. Quello è, ripeto, funzionale, funziona, è un'ottima soluzione per chiedure di fortuna, però in quel RP 50 watt non di più. Tra l'altro li ho buttato massimo 150 watt, perché di più non c'ho, quindi non è che nemmeno li ho buttato 3 kilowatt. E già questi sono i risultati. Saluti, Radio Killer.